Stanno tornando Cosa? Prepara il fucile Ero sicura che fossero morti Già anche io ma evidentemente mi sbagliavo Ora prenditela con chi ha messo in giro queste voci false E il loro sito è stato offline per settimane Tu sta zitto Cooper Non voglio sentirti dire un'altra parola Io sto di sentire l'S li vede arrivare Non esitare a sparare Tom andiamo tocca a noi due Portatemi con voi voglio vederli No Judy è pericoloso No li seguivo già quando facevano i match Poi con le faremo sapere E ora ho bisogno di conoscere cosa hanno in mente per la prossima stagione Posso farcela Tommy? È la fondatrice del fan club Ha visto tutti gli spettacoli Va bene Hai le munizioni? Sì ho le pallottole in tasca Non sono poi così tanti Ma da quando non sono più in scena Giranno di casa in casa per fare i loro spettacoli a domicilio Ora ci serve una mano Lo riconosco Lo riconosco Quello è Giuseppe Marchè Uno dei più pericolosi del gruppo Sentite Ormai sono tornati Pensavamo di essercene liberati per sempre Ma non è così Judy Tu scrivilo su forum Sul blog e anche su facebook Avverti tutti Chiunque fosse interessato Tom e io andremo a dirlo in città Però muoviti Forza Tom Andiamo Sani sul camion Improvvisa Questo Maledetto Non c'è più niente da fare ormai I bugiardini sono tornati C'è più niente da fare ormai Sì Che Sì Sì Grazie a tutti.